I carabinieri del comando provinciale di Napoli, con la collaborazione altresì dei reparti specializzati territoriali dell'arma dei carabinieri, hanno dato esecuzione ad un provvedimento applicativo di misure catolari personali, custodia in carcere, arresti domiciliari e divieto di dimora, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 29 persone gravemente indiziate a vario titolo dai reati di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti nonché detenzione di droga ai fini di spaccio. In particolare dell'attività di indagine sarebbe emerso la presunta operatività di due distinte associazioni per delinquere operanti nel territorio partenopeo con contatti in Spagna e in Olanda finalizzati all'approvvigionamento, al traffico ed alla venta di sostanze stupefacenti nonché la conseguente gestione degli decidi profitti in favore degli affiliati sia liberi che detenuti, la presunta disponibilità da parte degli indagati di armi da fuoco e di veicoli dotati di un sofisticato sistema di occultamento. Inoltre nel corso delle investigazioni si procedeva anche alla cattura in Dubai di un latitante nonché al sequestro di circa un quintale di sostanza stupefacente di vario tipo, nonché armi da fuoco e autovetture dotate di sistema di occultamento, nonché di un ordigno esposivo regolamentare ed alcune centinaia di munizioni di vario calibro. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e destinatari della stessa sono persone sottoposte all'indagine e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.